Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi vi do lezione dedicata a un altro sonetto molto importante di Niccolò Ugo Foscolo, vero e morte del fratello Giovanni. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, di iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Diario di Charlotte. Per quanto riguarda le odi e i sonetti di Ugo Foscolo abbiamo dedicato una video lezione che vi lascio qui, nella quale abbiamo spiegato velocemente la struttura delle sue poesie, quindi questa raccolta che comprende due odi e dodici sonetti. Tra gli ultimi sonetti abbiamo in morte del fratello Giovanni, sonetto scritto nel 1802. Il fratello infatti Giovanni Dionigi, tenente nell'esercito cisalpino, muore l'8 dicembre 1801. Foscolo in questa poesia rievoca il dolore provato per la sua perdita. Ne avevamo peraltro parlato anche nella video lezione dedicata alla biografia di Foscolo, che vi lascio qui. Giovanni Dionigi, quindi, è un tenente che a soli vent'anni muore a Venezia, per febbre nervina, secondo i documenti d'archivio. La sepoltura, però, fissata per il giorno dopo, fa supporre in realtà che la causa della morte sia dovuta a suicidio, probabilmente per un debito di gioco. Come vedete qui il sonetto in Deca Sillabi ha rime alternate nelle quartine e ha rime alternate nelle terzine. Quindi vedete qui lo schema rime con ABAB, ABAB, CDC, DCD. Quali sono i podi del sonetto? Il tema dell'esilio, quindi lo sradicamento, la precarietà esistenziale, ma anche la tomba, cioè il nucleo familiare e in particolare la figura della madre. Leggiamo, analizziamo e approfondiamo. Come vedete qui abbiamo, già vi ho sottolineato le figure retoriche. Quindi abbiamo un giorno, se io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, tu mi vedrai seduto, enjambement, sulla tua pietra. Qui abbiamo una metonimia, la materia per l'oggetto, quindi sulla tua tomba. Oh fratel mio, un'invocazione. Gemendo il fiore dei tuoi gentili anni è caduto. Abbiamo qui il fiore dei tuoi gentili anni, che è una metafora e anche il fatto che sia caduto. Inoltre troviamo una anastrofe. Lo spunto di partenza di questa poesia è il Carve 101 di Gaio Valerio Catullo, scritto per la morte del fratello. Nel 57 a.C. infatti Catullo si trova in Bitinia e va a porgere a suo fratello l'estremo saluto. Come vedete qui vi ho messo il testo latino e la traduzione per farvela confrontare con il testo di Foscolo. L'incipit è molto simile. Dopo aver viaggiato per molti paesi e per molti mari, sono giunto o fratello a questi tristi riti funebri. Notiamo anche che vi è un altro rimando che ho evidenziato, parlare in vano alla muta cenere, che troveremo poi nella continuazione del sonetto. Catullo però riesce, dopo aver viaggiato per molto tempo, a giungere alla tomba del fratello. Foscolo invece non può tornare a Dante perché si trova in esilio. Vedete in questa slide ricapitolativa le figure retoriche che vi ho accennato prima. Leggiamo ora la seconda quartina. La madre, orsò il suo di tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto, ma io deluse a voi le palme tendo e se da lungo i miei tetti saluto. Solo nostra madre ora, trascinando la sua vecchiaia, parla di me con le tue spoglie mute, ma io protendo verso di voi le mani che rimangono vuote e saluto solo da lontano la mia patria. Come vedete qui abbiamo diverse anastrofi. Suo di tardo traendo, deluse a voi le palme tendo, sol da lungo i miei tetti saluto. Un'antitesi, parla di me col tuo cenere muto, quindi parlare con la cenere silenziosa. E peraltro abbiamo qui la ripresa di Catullo. Inoltre, suo di tardo traendo è anche una metafora, in quanto significa trascinando la sua vecchiaia. Deluse palme tendo è una ipallage, invece. Dunque, Foscolo ha le palme, quindi il palmo della mano deluso, ma non è il palmo della mano ad essere deluso, bensì Foscolo. E abbiamo poi l'assineddo, che è le palme, per l'appunto, che in realtà sta per la mano, quindi la parte per il tutto, e anche ai miei tetti, che sta invece per la sua casa, quindi il tetto come parte della casa. Come vedete, quindi la madre, ormai anziana, andando alla tomba del figlio, parla di Foscolo alle spoglie, però non ottiene risposta, perché le spoglie sono mute, naturalmente. E anche qui abbiamo un'altra eco, come vi dicevo, di Catullo, quindi per parlare in vano con la tua cenere muta. Il leserio, dunque, di riabbracciare la famiglia da parte di Foscolo si traduce in un abbraccio che rimane vuoto, deluse a voi le palme tendo. Foscolo può salutare quindi i suoi cari e la sua terra soltanto da lontano. Vedete qui una slide, ricapitolando, delle figure retoriche. Prima terzina. Sento gli avversi numi e le secrete cure, che al viver tuo furon tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete. Come notate che abbiamo anche una di eresi. Foscolo dice, sento le avversità del destino e le preoccupazioni, un latinismo, che vi ho segnalato utilizzando il corsivo, che sconvolsero la tua vita. Furono tempesta, quindi abbiamo qui una metafora. E invoco anch'io la pace della morte, quindi anche qui abbiamo un'altra metafora. Notate anche e le secrete, e prego, quindi un'enumerazione per polisindeto. Foscolo quindi sente in umili le forze avverse che lo ostacolano. E' questa un'eco omerica di Odisseo costretto a peregrinare senza poter tornare a Itaca, perché è perseguitato dall'ira di Poseidone. Solo che poi Odisseo riuscirà a tornare a Itaca, mentre Foscolo non tornerà alla sua Zaccinto, come abbiamo letto anche nel sonetto a Zaccinto, che vi lascio qui. Dice Foscolo, e prego anch'io nel tuo porto quiete. Foscolo quindi si trova in una situazione bloccata, di sconfitta. L'unica alternativa possibile è il rifugio nella morte. E la stessa conclusione si trova in un altro sonetto che abbiamo analizzato, ovvero alla sera, che vi lascio qui. Vedete in questa slide un ricapitolando delle figure retoriche che abbiamo incontrato finora. Ora invece leggiamo l'ultima terzina. Come vedete qui abbiamo un'esclamazione con anche un'anastrofe. Abbiamo l'invocazione straniere genti, la metafora al petto, quindi l'abbraccio, e l'enjambement rendete all'ora. Foscolo sogna il ricongiuggimento familiare. Si identifica con il fratello scomparso e spera che dopo la morte potrà riunirsi alla sua famiglia ed essere seppellito accanto al fratello. Ci vediamo al prossimo video. Si ci vediamo alla prossimo video. Grazie a tutti.